buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo un po' con la forza di tutto il corpo e lo faremo mettendoci con le gambe ben divaricate le punte dei piedi un po' più aperte rispetto ai talloni manderemo il sedere indietro piegando anche un po' le ginocchia ma senza che queste spingano in avanti il petto rimarrà ben alto in poche parole il sedere va indietro le ginocchia si piegano il petto rimane alto non voglio abbassarmi quanto più possibile voglio arrivare a una via di mezzo perché dovrò rimanere in questa posizione per un po' di tempo quindi se andassi troppo in basso ci sta che magari per me diventa uno sforzo un po' troppo elevato quindi apro le gambe tiro sul petto mando indietro il sedere le ginocchia si piegano ma non spingono in avanti il peso è prevalentemente sui talloni mi metto in questa posizione come se fossi a cavallo il braccio destro spinge lentamente verso sinistra il mio busto ruota verso sinistra non vado a flettermi in avanti non vado a spostare il peso verso una gamba il peso è centrale le gambe sono forti il braccio destro spinge verso sinistra il mio busto ruota verso sinistra e poi il braccio sinistro spinge verso destra il mio busto ruota verso destra in tutto ciò è come se gambe bacino fossero letteralmente congelati mentre è la parte superiore del corpo che sta girando faremo venti movimenti in totale ci prepariamo peso sui talloni petto tirato su gambe forti spingo con il braccio destro a sinistra uno e con il braccio sinistro a destra due tre quattro movimenti lenti stendo bene il braccio cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici sedici diciasette diciotto diciannove e venti lentamente torniamo su altrettanto lentamente riavviciniamo i piedi e sciogliamo un po le gambe la parte inferiore del corpo sta reggendone tutto il peso la parte superiore ruota a destra e a sinistra mentre stendete il braccio pensate di spingere via qualcosa quindi il braccio si muove lentamente e via via aumenta la tensione su tutto il braccio lo andremo a rifare sciolgo bene le gambe le gambe e riapro punte dei piedi un po più aperte petto su mando il sedere indietro il peso sui talloni si piegano un po le ginocchia senza esagerare ma non spingono in avanti e riparto uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove e venti torniamo su lentamente i piedi si ravvicinano e si sciolgono bene le gambe lo andremo a fare un'ultima volta se avete bisogno di un po più tempo di ripresa potete tranquillamente mettere in pausa il video si riaprono le gambe petto tirato su peso sui talloni mando un po indietro il sedere le ginocchia si piegano ma non vanno avanti e riparto uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove e venti si torna su si riavvicinano piano piano i piedi si sciolgono bene le gambe e ci salutiamo dandoci come sempre appuntamento a domani per una nuova lezione grazie a tutti